Certo, io sono molto pro ai vaccini, magari sono anche persone contro, però secondo me è veramente importante riuscire a vaccinare tutte le persone perché la mia è una di quelle malattie che si può sconfiggere. Se il 90% della popolazione si fa il vaccino può veramente sparire e se ci diamo da fare noi, anche in Inghilterra è successo così. Per un anno hanno vaccinato tutti, dai 0 ai 20 anni, e in un anno è sparita una malattia che comunque fa ancora tanti morti. E se non fa i morti comunque fa tante persone, cioè, crea persone con disabilità. Che poi io dico che la vita è una figata, che è tutta bellissima, che mi piacciono le mie protesi, sì. Però sono una delle poche fortunate, a portarlo a dire perché c'è, è una delle poche fortunate a capire che bisogna godersi la vita. Quindi secondo me bisogna darsi da fare, vaccinare tutti, far sparire sta bastarda e poi si riparte via tutti insieme.